ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi mostro le foto migliori del mio cane iniziamo uno due tre quattro cinque hai detto ci sono le mie cuffie da gaming sei sette otto nove dieci mi sa che gli piace proprio mcdonald 11 12 13 14 questo tipo qualche mese vabbè 15 basta mi ha fatto il miglio del mio cane sono qua io spero che vi sono piaciute queste foto del mio cane se sì lasciate un bel like mi raccomando vi aspetto sia a iscrivermi a questo canale youtube sia il mio canale twitch it's provare 39 se volete vedere altre foto del mio cane questa prima volta che lo dico cercatemi pure su instagram it's provare 39 che il nome è come su quello di twitch e noi ci vediamo un prossimo video